io dico brutto infame tu domani dovresti andare a giocare perché non stai a casa allora senti questa no qualche anno fa c'era questo giocatore molto importante molto amato da tutti no non ti dico il nome però ti dico che prima ha giocato a Roma poi all'Inter e posta a Cagliari no questo la gente si faceva dare un culo un giorno era di venerdì all'indomani all'indomani c'era Roma Juventus a un certo punto questo mi viene col cappuccio così se stava a coprire io ti dico la verità avevo un po' bevicchiato così a un certo punto uno mi fa ma questo non è l'ho preso per l'orecchio io l'ho preso io che io che per la Roma mi sono fatto il carcere no io per la Roma mi sono fatto il carcere ho fatto le diffide ho preso le denunce gli dico vieni un po' qua gli dico stavo ambriaco fracico io dico brutto infame tu domani dovresti andare a giocare perché non stai a casa piuttosto che al bar ambriagate gli avresti detto magari un'altra persona gli avete detto famosi la foto famosi la foto io il telefonino te lo faccio mangiare hai capito che ti voglio dire